Siamo con Salvatore Cardile, marketing manager veicoli commerciali di Stellantis, alla presentazione del nuovo doblo elettrico. Con il doblo elettrico Fiat Professional completa la gamma dei suoi veicoli commerciali elettrici. Quali sono i punti di forza di questo nuovo veicolo? Intanto è un lancio importante in un segmento importante. Doblo ha una lunga storia anche di leadership sul mercato italiano che tendiamo a rinnovare con l'introduzione anche di una versione full electric. Una versione che è stata presentata nelle scorse settimane e che è da pochissimi giorni già in concessionaria. È un veicolo che continua ad avere all'interno del segmento una sua completezza di offerta perché conta su due passi, conta su diverse motorizzazioni, una elettrica e tre termiche, ma anche due configurazioni non più van ma crew cab e combi per poter ospitare a bordo anche una squadra di più persone. È un veicolo che contraddistingue l'elettrificazione con una tecnologia di ultima generazione. Un propulsore di 100 kilowatt, quindi 136 cavalli, più che centrato su questo segmento, è un pacco batterie che lo alimenta di 50 kilowattore che consente da un lato di poter contenere i prezzi di acquisto ma dall'altro di garantire a questo veicolo in ambito urbano un'autonomia di oltre 270 chilometri che è estremamente importante per la nostra clientela perché possa svolgere la propria attività quotidiana senza ricorrere mai o quasi mai, tranne eccezioni, a biberonaggi e a ricariche esterne. Una delle criticità maggiori dell'elettrificazione è l'infrastruttura. Come state affrontando questo problema? Certo, l'elettrificazione è un po' una medaglia a due facce. Da un lato c'è la tecnologia dei veicoli, quella su cui noi come costruttori possiamo naturalmente incidere. Poi c'è l'aspetto delle ricariche. Innanzitutto come Stellantis ci avvaliamo del supporto di Free to Move, che è una società del gruppo che si occupa proprio di fornire le infrastrutture, siano esse domestiche monofase, che più professionali trifase. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di lavorare sulla rapidità e sulla qualità di carica perché parliamo di una struttura di ricarica che è l'unica certificata da un costruttore OEM. Naturalmente a queste strutture si affiancano quelle pubbliche e lì chiaramente dobbiamo come sistema paese puntare sia sull'aspetto quantitativo, quindi sulla capillarità di distribuzione, ma anche sull'aspetto logistico, cioè il posizionamento, perché soprattutto in ambito B2B il posizionamento dei punti di ricarica deve avvenire in luoghi frequentati dai giri di lavoro. Questo per evitare digressioni sia in termini di spazio, quindi l'autonomia che viene sprecata, ma anche in termini di tempo. Ultimo, ma non per importanza, è l'aspetto economico, cioè l'aspetto del costo dell'energia, spesso, differente, non poco, tra l'energia sviluppata in house e l'energia che si può trovare in distributori pubblici. Quali sono i programmi di Stellantis futuri sulla mobilità sostenibile? L'elettrificazione dell'intera gamma dei veicoli commerciali Fiat Professional sui tre segmenti principali è parte di un programma più ampio che Stellantis ha, il Dare Forward, che impiegherà 25 miliardi di investimento per elettrificare l'intera gamma Stellantis entro il 2030. Questo impegno testimonia quindi non soltanto la volontà di rimanere all'interno di quelle che sono le guideline dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto avere un impegno green sul mercato. Grazie a tutti!